la dakar consacra all'olimpo del motosport sia uomini ma anche mezzi ed è quello che succede nei primi anni 90 con le bellissime moto entrate nella storia praticamente le honda africa twin le yamaha tenere e le bellissime gagiva elefante di orioli nelle auto pegeot abbandona arriva la citroen ma di fatto sono le 405 turbo 16 ricarrozzate mitsubishi elabora un prototipo esclusivo per la dakar ma ancora c'è da lavorare incomincia a vedersi tra i piloti moto anche il cannibale stefan veterancel di nuovo uno scenario fantastico per la dakar tra le auto le pegeot sono sempre da battere con una mitsubishi sempre all'inseguimento tra le moto il duello è tra kajiva e yamaha dopo l'abbandono della onda la kajiva ha lavorato molto per migliorare la sua moto assicurandosi le doti di collaudatore oltre che di fantastico pilota di edi orioli l'atmosfera ai bivacchi è sempre allegra con le popolazioni locali che festeggiano l'arrivo dei piloti jackie x adesso corre con la lada e si fa ritemprare a modo suo non ha certo accettato di buon grado il testa o croce dell'anno passato deciso dai jean todd non è davvero stato un buon giorno per noi berglund il mio navigatore stava male probabilmente per qualcosa che ha mangiato ieri sera da parte mia andavo un po troppo forte e ho sbattuto contro un albero non è davvero Grazie a tutti. La tappa più dura e difficile che abbia mai fatto alla Dakar o in qualsiasi altra gara. Il triunfo italiano di Eddie Orioli e della Cagiba ha il suo primo successo. Una carovana di Peugeot tra le auto con Ari Vatanen in testa. La tredicesima edizione della Dakar sarà ricordata come una delle più dure, con gli usuali ingredienti di dramma, pericolo e fatica. Grazie a tutti. Le condizioni sono sempre dure e difficili e solo alcuni riescono a superare i problemi. Siamo tutti uomini e abbiamo gli stessi ritmi vitali. Ecco perché c'è un'atmosfera così eccezionale. Le auto di testa cambiano nome, non sostanza. Ora si chiamano Citroën, ma sono cambiate solo le carrozzerie. Yamaha contro Cagiba tra le moto e Mitsubishi che ha creato prototipi per cercare di controbattere. La gara di X e Taren termina in un rogo della loro auto. Una tragica anticipazione del terribile incidente che costerà la vita a Taren dieci mesi dopo in Egitto. Un duello di alta tecnologia tra Citroën e Mitsubishi, entrambe impegnate ad attraversare il deserto alla massima velocità possibile. La navigazione però rimane un punto chiave per vincere. Stessi problemi tra le moto, con i migliori che decidono di procedere assieme. Di nuovo il passo di Nega in Mauritania, ma stavolta viene percorso in senso opposto e appare più facile. Dal punto di vista sportivo è stata una Dakar fantastica. Sapevamo che sarebbe stata dura. Tra le auto ben 5 della classe Marathon sono tra le prime 15 e la stessa cosa vale per le moto. Gilbert Sabin appare ottimista. Ma molte cose non sono più le stesse. Solo squadre che investono patrimoni enormi si possono permettere di competere per vincere. Una bandiera finlandese e un bicchiere di latte. Nessun dubbio sul vincitore tra le auto. Ari Watanen. Anche per stasera è tutto. Io ti do appuntamento a domani, alla solita ora, per un'altra puntata di Dakar Antologia. Non perderti anche il mio resoconto sulla Dakar 2022. Io ti invito a iscriverti sul mio canale se ancora non l'hai fatto, condividere questo video e lasciare un bel mi piace. Grazie per tutto il tuo tempo e buona serata. Ciao! 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 Ciao!